E' prevista per la notte tra giovedì e venerdì la riesumazione del corpo di Salvador Dalí, il padre del surrealismo. Lo ha deciso un giudice di Madrid su richiesta di una donna di 60 anni, Pilar Abel, che sostiene di essere la figlia naturale dell'artista, nata nel 55 da una relazione clandestina con la madre Antonia. Almeno sapremo la verità, che sia sua figlia o meno, con l'esame del DNA ci sono il 99% di possibilità di sapere la verità. Un'equipe specializzata si occuperà di rimuovere la grande lastra di marmo che conserva i resti del pittore, morto il 23 gennaio del 1989, e di prelevare dal suo cadavere campioni di unghie, denti e midollo, da cui ricaveranno il DNA da confrontare con quello della donna ricorrente. I risultati dei test dovrebbero essere resi noti nel giro di uno o due mesi.